L'unica stazione che ancora non trova questa dimensione appunto di sicurezza è Pratiditivo del Terramano. Questa stazione è a rischio, continuano gli amministratori sia locali, comunali che provinciali e la stessa società che gestisce la proprietà degli impianti a ignorare il problema. Pratiditivo è a rischio valanga e la messa in sicurezza non è sufficiente ad assicurare che non avvenga un'altra tragedia come quella dell'hotel Rigopiano di Farindola. A lanciare l'allarme è Pasquale Iannetti, guida alpina, la Cassandra d'Abruzzo. Come la figura mitologica infatti mette in guardia dei venti nefasti ma non viene ascoltato. Iannetti negli anni 90 faceva parte della commissione tecnica valanghe di Farindola. Già alla fine del secolo scorso mise in guardia l'amministrazione del comune montano del pericolo valanghe. Dopo aver fatto alcuni sopralluoghi con l'elicottero dei vigili del fuoco e con il membro del soccorso alpino abbiamo determinato un po' che la zona doveva essere assolutamente messa in sicurezza e soprattutto chiusa al traffico la strada che da Rigopiano portava a Campo Imperatore. La relazione però non fu tenuta in considerazione. Infatti verrà in ballo un progetto per costruire strutture recettive e villette residenziali proprio nel luogo della tragedia. Progetto che fu poi accantonato ad eccezione per quanto riguarda l'ampliamento dell'hotel Rigopiano. Se non fosse stato per questi interessi economici, secondo Iannetti la tragedia che costò la vita a 29 persone si sarebbe potuta evitare. Tant'è che la relazione della commissione di allora è stata acquisita e posta agli atti all'interno del processo per accertare le responsabilità del disastro. Nel marzo del 99 dicevo con molta chiarezza che i canali potenzialmente a rischio erano tre ma soprattutto quello più pericoloso era quello che dal Montesiella ovviamente convergeva tutto il blocco del fronte nevoso verso il rifugio acerbo e successivamente dopo verso il vecchio albergo. Oggi Iannetti lancia un nuovo allarme. A Prati di Tivo, in provincia di Teramo, vi sarebbe un altissimo pericolo. Lì le valanghe sono frequenti e secondo la guida alpina le misure di prevenzione adottate, quali gli Obelix, sono dispendiose e inefficaci. L'impianto scistico e l'hotel alla base del canale dove si convogliano le masse nevose potrebbero essere spazzati via, con anche la complicità di questo clima incerto. Questa è l'ultima follia della Gran Sasso Teramano.